ciao a tutti sono edgar la vostra guida free tour adesso sono nella piazza santa teresa vicino al museo navale dove inizia il nostro percorso a cartaghena città dove i pirati e corsari volevano prendere tutti i tessori che la città ne aveva una passeggiata per le sue stradine apprezzando le piazze i luoghi più importanti e le bellezza delle sue case colonie si raggiunge alla piazza san pedro dove c'è la chiesa dove si trovano le spoglie di pedro claver considerato lo schiavo degli schiavi arriva alla piazza della dogana dove viene ricordato la vendita degli schiavi se vuoi comprare i dolci locale la piazza dello scotch è il posto giusto e non poteva mancare la cattedrale arrivaremo alla piazza voliva dove si trova le statuette del nostro liberatore vicino si trova il palazzo della inquisizione che nel posto dove punivano le persone che non credevano nella fede cattolica questa è la piazza della mercè dove finisce la gitta in fondo la chiesa e anche il convento oggi giorno la chiesa e il teatro prenota con noi abbiamo tutti i protocolli di più sicurezza frittur cartagena ombrello giallo